Come incidono l'innovazione ai nuovi media nella comunicazione? Questo è l'elemento importante, significativo e innovativo che ancora non ha trovato un suo assetto definitivo perché da un lato ci troviamo l'universo dei consumatori che utilizza, attinge e si fida anche dei nuovi media dall'altro abbiamo le aziende che non sono ancora preparate, organizzate ad utilizzare questi strumenti digitali che peraltro sono anche di grande convenienza economica e di grande utilità ed elasticità. Voi come avete fatto innovazione e in che modo avete avuto un riconoscimento dai vostri investimenti in innovazione? Noi siamo partiti con un processo di innovazione ormai si può dire molti anni fa, abbiamo iniziato nel 2000 con la costituzione di una nostra società delicata, la V2SRL, che è una società che si occupa solo di innovazione tecnologica sui nuovi media. è stato un viatico difficile ma che ora ci dà grandissima soddisfazione, tant'è vero che anche nel ranking delle agenzie di comunicazione in Italia abbiamo il privilegio di poter dire che siamo la non-agenzia italiana fra quelle indipendenti in Italia e soprattutto la prima agenzia del Trivento. Grazie. 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 Grazie.